Domani sera alle 20.45 su Italia 1 torna Matricole, personaggi famosi quando ancora non lo erano. Simona Ventura ed Enrico Papi condurranno le nuove puntate e proprio domani ci sarà la prima. Giovedì invece assisteremo alle nuove prove di sopravvivenza sulle isole di Survivor. Questo programma è stato presentato da GT Casa Alarm. Ah, dove c'è la pasta? Ci sono i tortelloni Barilla. Il camaleonte italiano, lo Zelig italiano, Beo Teocoli! Zelig riserva sempre grandi sorprese. Zelig, tra poco, su Italia 1. Amaro Montenegro, sapore vero. Chiudi con l'inverno. Apri Fanta. Fanta. Fuori inverno, dentro estate. Benvenuti nel paradiso dei peccatori. Avete ceduto alla tentazione della panna. Vi siete persi in un mondo di frago. Non lo rifarete mai più. Bugiardi. Alpen, libe, panna e fragola. Buone, senza ritegno. Da testa nera, nuovo Taft Absolute Gel. Assolutamente pratico. Assolutamente fissante. Per una tenuta senza limiti, con ogni clima. Nuovo Taft Absolute Gel. Da testa nera, la qualità professionale. Col gran minestrone all'italiana Buitoni, le ragazze sono nostre, ricco, già condito. Non il solito minestrone. Visto? 8 minuti giusti, vai! Le voglio inondare di profumo. 3, 2, 1... Viene da qui questo profumino fantastico. Quello del secondo piano, eh? Siamo le ragazze del terzo. Permesso? Avanti! Buono! Si può! Ma come no? Si può! Perfetto. Quante era che non mangiavo un minestrone così? Due secoli. Gran minestrone all'italiana Buitoni, già condito pronto in 8 minuti. Friggio senza olio. Frittolosa! Friggio senza olio! Frittolosa! E l'olio non c'è più! Con frittolosa, patatine tutti i giorni! Buonissime! Da termo Zeta. Vedo che... Oltre che attrezzarvi, dovete anche studiare. Come si dice? Gli esami non finiscono mai. Blu Officina è un network FL Selenia. Cambio l'automobile! Il nuovo mensile garantito ACI per scegliere bene l'auto e risparmiare. Saldi di fine serie. 400 km zero super scontati. Usato sicuro. Ecco come non prendere fregature. Su Cambio è l'unico listino targato ACI per il nuovo e l'usato. Cambio. Fai il pieno di notizie. E non è un'invenzione. E neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta perché Quella è l'isola Che non c'è Guarda oltre. C'è Flash Team 24 ore. Senza scatto alla risposta e con doppia autoricarica gratis. Si è belli fuori quando si è puliti dentro. Rocchetta la leggera. Depura l'organismo perché stimola la diuresi. E vi mantiene puliti dentro. Belli fuori. Alfa 147 Vieni a provarla sabato dai concessionari Alfa Romeo. L'appuntamento più prossimo con il Cinema d'Italia 1 sarà venerdì sera. Alle 20.45 vedremo Mission Impossible. Ricordate anche il ritorno di Tempi Moderni con Daria Bignardi e le vostre storie. Mercoledì sera sempre le 20.45. Adesso arrivano i comici di Zeli. Acuietatevi. Acuieta basta. Por favor.